Erano 35 i giudici dell'Alta Corte e 28 hanno votato per l'Ergastolo. Perché hai fatto? Faremo di tutto per tirarvi fuori di qui a via. Mi rimane poco tempo. Se tu resti ancora qui morirai. Portami via di qui. Te lo prometto, Billy. Max, io vado via. Perché vedi? Se rimango qui io ci muoio. Fuga di mezzanotte. Domani sera alle 20 e 30 su Italiano.